Musica Benvenuti a questa nuova edizione del TG Oristanese, STV News. Oggi apriamo con la cronaca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ora il vaglio degli inquirenti ha bruciato lo stop, speronato lateralmente con la sua auto una Citroen C1 e poi si è dato alla fuga rischiando di urtare anche altre auto. Il grave incidente è avvenuto ieri sera nel centro di Oristano all'incrocio tra via Branca Leone Doria e via da Palestrina. Nell'urto è rimasta ferita una ragazza di 13 anni che viaggiava sulla Citroen e che è stata accompagnata al pronto soccorso del nosocomio oristanese dove i medici le hanno diagnosticato un trauma alla colonna e ha segnato sette giorni di cure. A guidare la C1 era suo padre che ha fornito ai carabinieri alcune prime indicazioni sulla macchina investitrice. Di nuovo sospeso il servizio di ritiro dei rifiuti tessili. La prefettura di Oristano ha assunto un secondo provvedimento interdittivo nei confronti della società Serdantes, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e coinvolta in un'indagine per mafia. Il provvedimento segue quello precedente che era stato sospeso dal TAR. I rifiuti tessili dovranno essere conferiti presso l'ecocentro comunale di via Oslo. Per le modalità di conferimento ci si può rivolgere al numero verde 800-632270. Ora passiamo alla politica. L'avventura per la costituzione del nuovo governo è ancora densa di incognite. Vediamo e sentiamo il punto di Paolo De Zogus. Paolo De Zogus L'avventura per la costituzione del nuovo governo è ancora densa di incognite. Per il riproporsi di vetti incrociati sul nome del premier indicato da 5 stelle dalla Lega, persona di tutto rispetto, Giuseppe Conte, proveniente dal profondo sud, un tecnico cresciuto nelle facoltà universitarie, tra queste una esperienza anche a Sassari. Come docente ha lasciato ricordi positivi. Vedremo in qualità di presidente del Consiglio dei Ministri se supera il blocco iniziale di Mattarella che prima di sciogliere la riserva oggi incontra i presidenti di Camera e Senato. Ma il più sembra fatto con gli accordi sul programma, o meglio sul contratto già firmati, in attesa che il documento venga consegnato e valutato con il premier una volta ottenuta l'investitura. E a questo riguardo ci sono diversi elementi da valutare, come ad esempio le prese di posizioni a livello europeo che, interferendo nelle questioni italiane, annunciano sfasci e disastri già avviati nel sistema bancario, manco a dirlo con l'innalzamento dello spread confrontato con l'insieme dei titoli tedeschi. Un refrain già musicato nel passato in occasione della Costituzione di altri governi, a torto o a ragione combattuti con queste misure. Ma ora la situazione è diversa. Il voto del 4 marzo è stato indicativo di una linea di tendenza politica che a 5 stelle alla Lega ha attribuito la maggioranza nei due rami del Parlamento, solida alla Camera, più risicata e incerta al Senato. In conclusione, prima di sfasciarsi la testa, vediamo quantomeno le prime mosse. Impietose le analisi e le valutazioni economiche riguardanti in Sardegna il settore dell'artigianato. Vediamo e sentiamo il commento di Paolo De Zogus. Sono impietose anche le valutazioni economiche riguardanti in Sardegna il settore dell'artigianato. I dati sono analizzati dal CNA, che certifica in 8.000 le aziende che nell'isola sono state cancellate nel decennio che va dal 2007 al 2018, che hanno significato la perdita di 40.000 posti di lavoro e la conseguente perdita di 3 miliardi e mezzo di prodotto interno lordo. Eppure il settore artigiano e manifatturiero restano capisaldi del sistema economico della Sardegna, dove il valore principale resta quello dei servizi e della pubblica amministrazione, scuola e sanità comprese. Il dettaglio dell'analisi del CNA annota la scarsa competitività dell'isola, il rilevante deficit istituzionale, il blocco della spesa pubblica, considerato il più elevato tra le regioni italiane. Discutibile infine l'uso del Fondo Regionale Infrastrutture, del quale si è speso solo un terzo dei 150 milioni disponibili su base annua. In sostanza la Sardegna ha fatto peggio anche di regioni come il Molise, l'Abruzzo, la Campania. Venerdì 25 maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di trattamento dei dati personali contenuti nel Regolamento UE 679-2016. Per agevolare le imprese e dare un supporto nell'adeguamento alle nuove disposizioni, Confapi Sardegna prosegue con gli appuntamenti dedicati al tema e organizza un nuovo seminario informativo dal titolo Le nuove regole della privacy che si svolgerà a Oristano giovedì 24 maggio con inizio alle 15 nella propria sede di via della conciliazione numero 58. Mercoledì 23 maggio sarà donato al carcere di Massama un busto raffigurante Giovanni Falcone, realizzato dallo scultore Giuseppe Maccioni. Vediamo il nostro servizio. Il 23 maggio ricorre il 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui con un'azione di guerra la mafia fece saltare 400 metri dell'autostrada e uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Non si tratta di fare memoria relegandola ad una data pure importante, bensì di vivere la memoria per diventare ed essere memoria nella nostra vita, nel modo di pensare, di scegliere e di agire. Anche Oristano si prepara a ricordare quei tragici momenti. Domani, 23 maggio appunto, sarà donato al carcere di Massama un busto raffigurante Giovanni Falcone, realizzato dallo scultore Giuseppe Maccioni. Sempre domani si celebrerà il 201esimo anniversario della festa della Polizia Penitenziaria. Grazie alla comunità, il seme e all'opera dello scultore verrà scoperto un busto del magistrato. A seguire verrà data la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Matarella e del Capo dell'amministrazione penitenziaria. Prevista anche una tavola rotonda sulle iniziative sociali, culturali e più in generale sulla collaborazione tra l'Istituto Penitenziario e il territorio. Saranno presenti il Sindaco di Oristano Andrea Luzzu, il Direttore dell'Antiquarium Arborense Raimondo Zucca, la Direttrice dell'Associazione Culturale Morsi d'Arte Anna Sanna, il Direttore dell'Associazione Culturale Mare Calmo Marco Esposito e il Presidente della Comunità del Seme, Antonello Comina. Stamattina gli alunni della Quinta D della Scuola Primaria di Seneghe hanno visitato la caserma Diego Sini di Abbasanta, sede dello squadrone Carabinieri e Li Portato Cacciatori Sardegna. Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti Maria Giovanna Meles, Antonella Cappello e Mario Di Rubbo, sono stati accolti dal comandante del reparto, il Maggiore Alfonso Musumeci, e dal capitano Oscar Caruso. Hanno partecipato insieme ai Carabinieri alla matutina cerimonia dell'Alza Bandiera, cantando anche l'Inno dei Mameli. Inoltre hanno preso parte alle attività destrative delle unità cinofile, del nucleo cinofili di Abbasanta e degli stessi Carabinieri Cacciatori, svolgendo con questi sia attività roccia sia di ardimento. E ora passiamo ad un altro argomento. Nasce a Oristano il distretto provinciale di educazione alimentare e alla salute. Vediamo di cosa si tratta. Obiettivo prefissato. Costituire uno strumento di elaborazione, diffusione e azione per tematiche attinenti, l'educazione alimentare e in relazione alla salute. Al via a Oristano il distretto provinciale di educazione alimentare. Col diritto Oristano, l'associazione Agrimercato Oristano, Campagna Micca, l'associazione Più Sardegna e l'istituto comprensivo numero 4 di Oristano, hanno posto le basi per realizzare un programma ampio e esaustivo, atto coinvolgere vari interlocutori con le scuole, settore privilegiato. Aperti all'adesione di altri attori, insieme ai produttori, una serie di tecnici coadiuvati all'occorrenza da nutrizionisti o altri esperti di alimentazione del pubblico o privato. Cureranno le diverse iniziative. Al via dunque i primi appuntamenti sperimentali. Mercoledì 23 maggio, a partire dalle ore 16, al Centro Provinciale Istruzioni Adulti, prima tappa del progetto impara a sarte, informazione e inclusione sociale. Con l'ausilio dei produttori di svariati settori agricoli, si terrà un'illustrazione su come si costruisce a via un'azienda, i lavori, le qualifiche professionali, le criticità e la redditività. E, curate da coldiretti, brevi e funzionali informazioni su come avviare e gestire un'impresa. Il 31 maggio, presso la scuola Alagon di Via Diaz, a partire dalle ore 17, prima edizione delle Sinfonie del Cibo, giornata di educazione alimentare e della cultura del cibo ad alunni, genitori e insegnanti, proposta in modo alternativo e divertente. Per il Presidente Coldirete Oristano, il Vice Direttore Giovanni Murru ed Emanuele Spanò, il Distretto Provinciale di Educazione Alimentare e della Salute rappresenterà uno strumento di riferimento per l'intera comunità, le istituzioni e le scuole, per consolidare e proseguire nel percorso di un sano e corretto rapporto con il cibo in relazione alla salute e salubrità dei prodotti. Giovedì 24 maggio si svolgerà a partire dalle ore 8 e 30 all'Hotel Mistral 2 di Oristano, la giornata nazionale del terapista occupazionale. Vediamo di cosa si tratta. Giovedì 24 maggio si svolgerà a partire dalle 8 e 30 all'Hotel Mistral 2 di Oristano, la giornata nazionale del terapista occupazionale, evento organizzato dall'Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, con il patrocinio della Società Tecnico-Scientifica Italiana di Terapia Occupazionale della TS ASL di Oristano e dell'Istituto di Riabilitazione Santa Maria Bambina. Il terapista occupazionale è quella figura professionale che opera in ambito sanitario al fine di accrescere l'autonomia e la partecipazione sociale tramite attività di interesse che sono parte della vita quotidiana di una persona e lavora a stretto contatto con numerosi professionisti. Dopo le celebrazioni dell'anno scorso per il ventennale del profilo professionale tenutesi a Montecitorio, quest'anno è stata scelta la città di Eleonora d'Arborea per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo della professione nella promozione della salute e benessere biopsico-sociale degli individui. Destinatari dell'iniziativa sono non solo professionisti sanitari, ma tutta la popolazione, il mondo dell'associazionismo e gli stakeholder. La Caritas Diocesana di Oristano per sensibilizzare la comunità sul tema del gioco d'azzardo organizza uno spettacolo di teatro civile dal titolo Gran Casinò Storie di chi gioca sulla pelle degli altri messo in scena dalla Compagnia di Milano itineraria teatro che dal 1994 affronta con i propri spettacoli temi cruciali e urgenti ottenendo un efficace impatto su adulti e giovani è stimolandone la presa di coscienza. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Almeno 15.000 persone hanno affollato Oristano per la decima edizione di Monumenti Aperti svolta il 12 e il 13 maggio. Vediamo. Secoli di storia e cultura che si intrecciano, fondono e legano in un'unica città. Questa è Oristano, il giudicato di Arborea, il re, la regina e i cavalieri, i santi e i molteplici devoti. Esposizioni, mostre, musei, e chiese monumentali, ogni angolo della città parla di storie e storie. Almeno 15.000 persone hanno affollato Oristano per la decima edizione di Monumenti Aperti che si è svolta il 12 e il 13 maggio. Accompagnati da bravissimi studenti e volontari, tantissimi cittadini e turisti, sono andati alla scoperta dei monumenti e dei siti aperti per l'occasione. I registri presenti, ma ancora di più le sale affollate, le piazze in vase e le file davanti ai monumenti, così come il clima di interesse e partecipazione, testimoniano il successo della manifestazione. Tra i 57 siti culturali aperti, il pienone lo ha fatto il Palazzo Arcivescovile, con oltre 900 visitatori, e Palazzo De Castro, con il giardino da cui si vedono le antiche mura giudicali. Grande l'interesse per il centro di documentazione della Sartiglia, per la mostra sulla ceramica, per il Museo Diocesano, per le iniziative realizzate dall'archivio storico e per l'antica regia dei giudici d'Arborea, che dopo il trasferimento del carcere suscita sempre grande curiosità. Molto positivi anche i primi riscontri al progetto Museo Oristano, con il varo del nuovo spazio web interamente dedicato al sistema dei beni culturali oristanesi. Il lancio del portale è stato accompagnato dalla presentazione itinerante del progetto. Soddisfazione è stata espressa sia dal primo cittadino oristanese che dall'assessore alla cultura Massimiliano Sanna. Al successo della nuova edizione di Monumenti Aperti hanno contribuito in maniera determinante circa 1.400 tra studenti e volontari delle associazioni culturali e di volontariato. A loro va il nostro sentito ringraziamento per aver saputo offrire ai visitatori competenze e simpatia, riuscendo a soddisfare quel bisogno di conoscenze e di cultura sempre più diffuso anche a Oristano. Sabato 26 maggio alle 17.30 presso il Chiostro del Carmine prenderà il via un ciclo di seminari, conferenze, visite guidate ai beni culturali della città. Vediamo. Sabato 26 maggio prenderà il via a partire dalle 17.30 presso il Chiostro del Carmine di Oristano un ciclo di seminari, conferenze e visite guidate ai beni culturali della città. L'interessante iniziativa dal titolo Una città nella storia nasce nell'ambito del progetto Museo Oristano promosso dall'assessorata alla cultura del comune e dalla Fondazione Sasartiglia per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della città. Il percorso prevede la visita ai piccoli e grandi monumenti, non solo siti archeologici, opere architettoniche dell'arte, ma anche i documenti, gli eventi storici, i fatti e i personaggi. Le conferenze, vere e proprie visite guidate, a seconda del tema, saranno realizzate presso i luoghi e i monumenti che si intendono presentare, dove la guida, attraverso immagini, video e letture, potrà affrontare il suo percorso. In linea con lo spirito di partecipazione e condivisione di Museo Oristano, chiunque abbia compiuto uno studio, una ricerca, una tesi di laurea su un argomento legato alla storia della città, potrà diventare protagonista di uno degli eventi del ciclo di conferenze, così dichiare in un comunicato l'assessore alla cultura Massimiliano Sanna. Sarà un momento utile per condividere con la comunità la sua ricerca. Mercoledì 23 maggio alle ore 18 presso il Centro Servizi Culturali ULA di Oristano sarà presentato il libro di Daniela Piras, Leo. Il libro racconta la storia di uno studente universitario e della sua difficoltà a trovare il proprio posto all'interno della società. Attraverso Leo, l'autrice affronta un fenomeno sociale attuale ma non ancora molto conosciuto, quello relativo ai ritirati sociali. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione grazie di essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese grazie di averci seguito.